Ciao ragazzi, io sono Riccardo. Bentornati nel mio canale YouTube, oggi vi parlerò del FIMI X8 Mini Pro, il drone sotto i 250 grammi della Xiaomi, un drone che mi è piaciuto tantissimo, sia per la qualità video, sia per come vola, che anche per la qualità costruttiva. Un drone paragonabile per certi versi, anche il DJI Mavic Mini 2. Diciamo che è una via di mezzo fra il Mini 1 e il Mini 2, è il prezzo del Mini 1, quindi un drone davvero molto valido, con il gimbal stabilizzato, guardate, rimane perfettamente allineato, io muovo il drone e il gimbal rimane perfettamente puntato in avanti, questo ci permette di avere delle riprese molto molto stabili, come avete visto inizialmente, anzi a proposito, vedrete delle riprese diurne, delle riprese notturne, ovviamente qualcosa l'ho accelerata, ma il drone stava volando ad una velocità normale, accelerano le riprese anche perché nella velocità elevata della riproduzione accelerata, si vede ancora di più se ci sono delle vibrazioni, invece nelle riprese al rallentatore ovviamente sembra tutto molto stabile. E un drone durante le riprese deve essere stabile, e questo lo è. Vi farò vedere delle riprese del drone durante il suo overing, vi farò vedere ovviamente dal lato alcune riprese, vi farò vedere che tutti i problemi che ho visto finora in alcune recensioni, quindi presenza di vignettatura, orizzonte storto eccetera, con l'ultimo aggiornamento sono sparite, almeno il mio non le presenta. Adesso mettiamoci sul bancone, guardiamo come è fatto, ovviamente però ricordatevi di andare a dare un'occhiata giù nel link che troverete nel primo commento e nella descrizione, perché troverete un codice di sconto per comprarlo sul sito Banggood, non so quale percentuale di sconto riuscirò a ottenere, però lo pagherete di meno. Adesso guardiamolo per bene da vicino, iniziamo. Il drone viene venduto all'interno di questa scatola, non ha alcuna valigetta, non ha nessun accessorio, oltre quello che troveremo adesso al suo interno. Una volta aperta, sulla parte alta troviamo questo adesivo con un codice QR che ci permette di scaricare l'applicazione. Sulla parte alta c'è il nostro FIMI, con il suo coprigimbal, ovviamente qualcosa sarà posizionato in modo differente, perché il drone l'ho già utilizzato e utilizzato tantissimo. Sulla parte bassa invece c'è il radiocomando, ci permette di alloggiare nella parte centrale il telefonino, adesso lo vedremo per bene. Sono presenti anche manuali di istruzioni, guida rapida eccetera. E ancora più in giù troviamo questa scatolina, con all'interno il cavo USB di tipo C, per poter ricaricare sia il radiocomando che il drone, un piccolo cacciavite e due paia di eliche di ricambio, più ovviamente questi cavetti che servono a connettere i dispositivi nostri telefonini con i tipi di connessione più diffusi, quindi la connessione per l'iPhone, la connessione con il cavo USB tipo C e micro USB, in base al telefonino. Una parte va collegata al radiocomando e l'altra parte al telefono, adesso vi farò vedere. Diamo anche una rapida occhiata alla scatola, come vedete da questa parte abbiamo il drone fotografato di colore bianco, invece dalla parte opposta abbiamo il drone di colore arancione, un colore che mi piace tantissimo, mi ero illuso quando ho preso la confezione, ero convinto che fosse di questo colore e invece purtroppo è di colore bianco, mi piace molto di più questo. Allora chissà, in futuro può essere che verrà proposto anche di questa colorazione. Sulla parte bassa abbiamo delle icone, quindi ci informano che il drone pesa meno di 250 grammi, però nella versione Pro, infatti questo drone è possibile acquistarlo sia nella versione normale con batteria che pesa un pochettino di più, oppure con la batteria Pro leggermente più leggera che ci permette di mantenere un peso di 244 grammi. A fianco un'altra icona che ci dice che le riprese sono 4k, il gimbal stabilizzato meccanicamente su tre assi, la batteria che ci permette di volare fino a 31 minuti, sinceramente non l'ho cronometrato, quindi non so dirvi quanto tempo vola, però non l'ho portato al limite, però ho superato 25 minuti, poi sono rientrato anche per esigenze personali. La distanza raggiungibile è 8 km, ma vi ricordo comunque che in Italia bisogna volare a vista e che l'altezza massima dove consentito è di 120 metri, altrimenti di meno. Resiste a un vento molto forte, quindi livello 5 e il tipo di ricarica è rapida, quindi con il cavo USB di tipo C. Adesso guardiamo rapidamente questo radiocomando e poi passiamo anche al drone. È in plastica molto solida, abbastanza dura, nonostante sia estensibile, ha davvero pochissimo gioco, quasi impercettibile, quindi si allunga in questo modo e ci permette di alloggiare al suo interno telefonini che abbiano una grandezza massima di 5 pollici e mezzo. Però, però, come vedete, un iPhone 7 Plus riesce alloggiarsi al suo interno senza problemi, ma se dovessi prendere un altro telefonino, sempre da 5 pollici e mezzo, come questo, non riusciamo a utilizzarlo. Per pochi millimetri, però non riusciamo a inserirlo nella sua sede, perché purtroppo ha questa bombatura, quindi tenete conto della dimensione massima. Poi in descrizione vi lascerò le misure con la cover inserita, per rendervi conto di quale sia la misura massima che può alloggiare. Allora, sulla parte bassa abbiamo gli stick che si possono avvitare, metallo su metallo, quindi non c'è il rischio neanche di spanarli col passare del tempo. Ci sono alcuni radiocomandi che hanno plastica su plastica oppure metallo su plastica e a furia di avvitare e svitare si rischia di rovinare l'alloggiamento. Come morbidezza mi piacciono. Sulla parte frontale troviamo le due antenne, si aprono in questo modo. Ovviamente, essendo ostensibile, le antenne rimangono solo su una parte, quindi un'estremità sia lunga. Scusatemi se ci sono alcuni graffi insomma maltrattato, ma l'ho utilizzato e sfruttato per quasi due mesi davvero tantissimo. Ora guardiamo i comandi. Sulla parte bassa a sinistra abbiamo il tasto per l'accensione, sia per il drone che per il radiocomando, per poterli accendere bisogna fare una breve pressione e poi una pressione più lunga 1 e 2. A questo punto emette un segnale sonoro e sarà già pronto da utilizzare. Sulla parte frontale abbiamo il tasto per scattare le foto, il tasto per registrare i video e la rotellina per poter orientare il gimbal, che si orienta in modo fluido. Ovviamente anche la rotazione della rotellina, il comando deve essere dato in modo fluido, altrimenti il gimbal si muoverà più o meno velocemente. E questo è il tasto per il ritorno a casa, perché questo drone ha la possibilità di tornare a casa quindi nel punto da cui è decollato, sia quando premiamo questo tasto, quando sta per finire la batteria oppure quando si perde il segnale. Questo invece è l'ingresso usb tipo c per poterlo ricaricare, ma anche per poter connettere il telefonino al radiocomando e di conseguenza al drone, perché questo drone ha una particolarità, a differenza di tanti altri, non si connette direttamente al telefonino, si connette al radiocomando e il radiocomando poi trasferisce i dati al nostro telefonino. Nella parte posteriore del drone infatti troviamo questo tastino scorrevole a destra e a sinistra che ci permette verso sinistra di utilizzarlo con il radiocomando. Verso destra invece abbiamo la possibilità di utilizzarlo con il wifi e quindi sfruttare il telefonino con dei comandi virtuali che appaiono nell'applicazione. Adesso che abbiamo il drone fra le mani, guardiamo come si apre e osserviamolo da vicino. Allora i primi braccetti da aprire sono quelli superiori. Come vedete, come dimensioni, somiglia tantissimo al Mavic Mini 1, praticamente quasi le stesse dimensioni. Non voglio fare un vero e proprio confronto, però come termine di paragone diciamo che è un buon punto di partenza, perché ha delle prestazioni superiori al Mini 1, ma non arriva al Mini 2, sia per quanto riguarda l'overing, per quanto riguarda alcune particolarità, però sicuramente è superiore a questo già per quanto riguarda la qualità del video. Grazie a tutti 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 a video e più in basso un comando ci permette di impostare alcuni parametri riguardanti la ripresa video e ovviamente anche per quanto riguarda le foto un comando che ci permette alcune funzioni smart quindi la possibilità di utilizzare iphone smart track tap fly l'orbita la spirale eccetera sono però tutte cose che io sinceramente non utilizzo mi è capitato di utilizzarle ma non vado matto per questo tipo di utilizzi e più in basso le indicazioni sul tipo di impostazioni che abbiamo dato questo invece è una rotellina con un ingranaggio che ci permette di modificare alcuni parametri sia riguardanti il volo che riguardanti ovviamente foto video eccetera nonché la calibrazione è tanto altro la calibrazione va fatta come sempre ruotando in senso orario sia con il drone posizionato in questo modo e con il drone posizionato in verticale e dobbiamo fare questa calibrazione ogni volta che ci spostiamo di qualche chilometro ovviamente è possibile anche calibrare il gimbal quindi cliccare su questa icona e poi andare su calibrate il drone farà tutto in automatico quindi vedrete il gimbal che si muoverà e si calibrerà conviene farlo ovviamente su una superficie perfettamente piatta e perfettamente livellata informazioni riguardanti la batteria la possibilità di cambiare i tipi di comandi vi consiglio di impostare sempre modo 2 perché il modo più diffuso su quasi tutti i droni quindi se utilizzate queste imparate con questo vi troverete poi bene con la maggior parte dei droni però è possibile utilizzarlo in base alle vostre preferenze è possibile anche impostare l'altezza massima di volo la distanza massima raggiungibile in questo caso possiamo anche impostare nessun limite distanza per adesso era impostato a mille metri però come vedete riusciamo a impostare fino a 5 mila metri ma il radiocomando e il drone comunque riescono a comunicare fino a 8 km e poi importantissimo l'altezza per il ritorno a casa da impostare sempre in base all'altezza che abbiamo come ostacoli per il ritorno è possibile anche utilizzare la modalità sport oppure la modalità beginner questa vi permette se siete poco esperti di volare con la massima sicurezza perché limiterà la velocità distanza eccetera ovviamente non posso farvi vedere tutto perché i comandi sono davvero tantissimi però adesso vi faccio vedere altre riprese eseguite durante il volo vi farò vedere anche il suo overing fatto delle prove come sempre cerco di fare delle prove un po estreme quindi ho provato in una campagna dove si vedono degli ulivi scossi dal vento e anche delle piante a fianco a questa zona che vedrete con vento davvero molto forte e nonostante tutto il drone è riuscito a volare perfettamente a rimanere praticamente quasi immobile dovete considerare che il vento era davvero molto molto forte dopodiché vi farò vedere qualche altra ripresa di urna anche sopra una diga e poi un paio di riprese notturne il led rosso nella parte posteriore sicuramente non è un'ottima indicazione non è un segnale positivo infatti in questo caso per esempio ci indica pure che oltre ad essere sotto sopra si è sul riscaldato parecchio guardate abbiamo raggiunto i 72 gradi perché il drone è rimasto acceso tutto questo tempo senza utilizzarlo e quindi si è sul riscaldato cosa che sconsiglio di fare io lo sto facendo perché dovevo fare questo video quindi l'ho mantenuto acceso altrimenti non potevo farvi vedere l'applicazione però sconsiglio di mantenerlo acceso tutto questo tempo e ovviamente come tutti i droni se rimane fermo si surriscalda invece in volo grazie alle prese d'aria si va raffreddando i struggle to see what your reasons are sitting in your ballot silence breaks my heart turn the key used to be our getaway car now i only wanna get away the more we are gotta find my way to you even though you're next to me no matter what i do your heart is drifting out of reach head on the water i'm swimming hard and trying to keep this alive gotta find my way to you now the love of us can't stop 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 e allora ragazzi cosa dire quindi di questo drone come avete visto vola bene non ha assolutamente alcun difetto per quanto riguarda le riprese molto nitide molto chiare utilizzato il profilo standard non sono intervenuto nei post produzione e non ho dato alcun tipo di impostazione nemmeno dall'applicazione quindi ho acceso ho avviato il drone ho iniziato a registrare il drone è molto stabile le riprese mi piacciono è costruito bene come costruito bene anche il mavic però il mavic sappiamo che qualche gradino più in alto e a proposito di mavic ho visto che questo drone viene spesso paragonato confrontato nei video con il mavic mini 2 ma per la fascia di prezzo io lo paragonerei più al mini 1 garantendo con questo drone una qualità migliore per quanto riguarda le riprese molte funzioni in più eccetera ovviamente con il mini 2 perde in partenza però questo drone costa poco meno del mini 1 e ci garantisce una qualità molto molto maggiore ci garantisce tramite soprattutto gli ultimi aggiornamenti dei risultati davvero di ottimo livello quindi cosa dire io spero che questo video vi sia piaciuto vi invito ad iscrivervi al mio canale mettere il video se appunto vi è piaciuto l'avete ritenuto utile cliccate sulla campanella qua giù per attivare le notifiche e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti ciao da riccardo e a presto